Bentornati, sono rimasta da sola ma per un secondo perché in realtà con me ci sono ovviamente altre persone. Adesso parliamo, come vi avevo anticipato, di brand entertainment. È un tema super attuale. Cosa significa fare brand entertainment oggi? Il panel è composto in maniera particolare perché vogliamo aprire la discussione, il confronto fra produttori di eventi, produttori di contenuti televisivi e produttori di contenuti anche misti, digital o di qualsiasi natura. Dove sono i confini? Scopriamo le analogie, le differenze e valutiamo se ci sono delle sovrapposizioni o delle potenziali sinergie. Passo a presentare gli ospiti. Abbiamo con noi Antonella Di Lazzaro, che saluto. Ciao Antonella, che è direttore trade marketing e iniziative speciali di Rai Pubblicità. Poi salutiamo Nicola Lampugnani. Ciao Nicola, eccolo. Ciao Nic, founder e partner di Epic. Poi ci spiegherà magari perché è un passaggio abbastanza recente. e Alberto Chiapponi, Integrated Marketing Communication Director presso Campari Group. Buongiorno Alberto. Come vedete quindi sono tre voci che appartengono a tre panorami diversi, ma è molto interessante metterle in confronto. Partirei con Antonella. Allora, sono molto molto felice che Antonella abbia accolto il nostro invito di partecipare perché dal nostro punto di vista è un punto di vista eccezionale sulla fronte di ideazione e produzione di grandi eventi e contenuti posso dire per un pubblico il più mainstream possibile in assoluto. Antonella cura direttamente comunque insieme ovviamente ai suoi colleghi da Sanremo, i Seat Music Awards, l'Arena Suzuki, quindi fa grandissimi eventi per il grande pubblico. Come è cambiato Antonella il processo di creazione di questi prodotti in questi ultimi anni? E mi interessa molto, visto che ovviamente tu hai un punto di vista anche di rai pubblicità, il rapporto con i brand nel crearlo, nel processo di creazione. È vero che si passa, fra virgolette, da sponsorizzazioni quasi a coproduzioni o a co-creazione con il brand di riferimento? Assolutamente, assolutamente vero. C'è stata sicuramente un'evoluzione nella comunicazione dei brand rispetto al passato. Tre fattori principali come piccolo antefatto. Da una parte il bisogno di fare marketing esperienziale che avvicini e che metta in primo piano la relazione tra i brand e le persone. Secondo, la necessità di raccontarsi di più e soprattutto la possibilità di utilizzare più canali. Questi tre fattori hanno portato sicuramente le aziende a diventare delle vere e proprie media company. Quindi noi ci interfacciamo con aziende che già hanno una natura, uno spirito di media company e che partecipano attivamente alla creazione di eventi per un pubblico mainstream. Parliamo di branded content. Il branded content è nativamente uno strumento che traduce questo concetto perché è una coproduzione a tutti gli effetti. Quindi partiamo già da un concetto di coproduzione è nato infatti per creare una relazione tra brand e il suo pubblico e la propria audience con contenuti che si stanno sempre più raffinando. Quindi di fatto sono cambiati anche i modelli organizzativi. I modelli organizzativi sono modelli organizzativi che vedono coinvolti attivamente le concessionarie. Tu adesso hai fatto riferimento al fatto che noi siamo una concessionaria. Noi abbiamo adesso un team interno che sviluppa progetti di brand entertainment. Lo stesso è accaduto per le agenzie media. I brand hanno in pancia un'anima di sviluppo di contenuti media e di conseguenza il processo creativo è diventato estremamente collaborativo, corale e ci partecipano di conseguenza editori con le loro varie piattaforme, le concessionarie, i produttori di eventi chiaramente molto importanti, brand partner e le loro agenzie di riferimento. Quindi sicuramente il processo è molto molto più collaborativo che in passato. Lo abbiamo visto, noi lo abbiamo toccato con mano, insomma il nostro primo grande evento che ebbe l'ambizione di uscire dalla sacralità di un teatro, del massimo teatro, il teatro Ariston italiano fu Sanremo nel 2020 dove proponemmo questo progetto di urbanizzazione ed estensione sul territorio di cui uno dei momenti più importanti fu proprio quello del Nutella Stage. La passeggiata di Amadeus che usciva con Emma per recarsi verso il Nutella Stage è stato il picco di audience della prima serata, quindi per noi fu un brivido perché fu la prima volta e quello assolutamente fu un progetto estremamente collaborativo. Come lo sono stati i Seat Music Awards, Seat title sponsor per il terzo anno, un progetto di Friends and Partners che accoglieva, che accoglie anche al suo interno altri brand partner e questo è un altro punto importante perché di fatto gli obiettivi dei brand si possono mettere a sistema in uno stesso evento ed è una delle prospettive future che noi abbiamo. O Arena Suzuki, anche qui un altro caso di title sponsor, progetto assolutamente cross mediale con Arcobaleno 3 sempre nella sacralità dell'arena. Stupendo, è trattato dei temi interessantissimi, anche la coesistenza di più brand nella creazione di un format credo che sia uno dei temi migliori da affrontare poi nel futuro. A proposito di creatività, perché hai parlato ovviamente di co-creazione, volevo interpellare Nicola che è uno dei creativi che io stimo maggiormente, quindi assolutamente per me è un punto di vista d'eccellenza. Nicola, ecco innanzitutto dici chi sei e parlaci un secondo di Epic perché è meraviglioso che voi quanti siete come partner. Allora, noi siamo un gruppo di partner che abbiamo deciso di fare un po' una sfida nuova oggi nel mondo della comunicazione. Abbiamo anche una cantina come vedete nell'ufficio. No, noi diciamo che facciamo della cheterogenità un po' la nostra chiave, nel senso che siamo un gruppo di partner molto diversi, che arrivano in parte dalla creatività, in parte dalla produzione, anche dai media e anche dalla pubblicità. Abbiamo deciso di sviluppare una nuova sigla che di fatto parla di, non parla di interruzione, ma parla di intrattenimento. perché siamo resi conto un po' nella nostra esperienza in agenzie, la mia poi in particolare tra agenzie e anche broadcaster come Discovery, che la pubblicità per come la conosciamo noi, l'interruzione costante, oggi porta i brand a diventare sempre più degli stalker. E forse è venuto anche il momento di farli tornare ad essere dei seduttori, come sono stati negli anni, siccome è d'oro anche della comunicazione. Per questo noi abbiamo deciso di intraprendere questa sfida epica per noi e quindi stiamo creando, abbiamo creato di fatto, una firm, come una firm di Avvocati, dove tutti questi partner lavorano verticalmente su delle specificità e tutti insieme invece lavoriamo per dare ai nostri clienti un punto di vista diverso, ma soprattutto un punto di vista molto fluido per tutto quello che è il mondo dell'intrattenimento, quindi del branded entertainment. E questo vuol dire branded content, serie televisive, progetti integrati digitali basati sull'influencer marketing e anche sulla collaborazione con creator. Diciamo che cerchiamo di raccontare oggi brand con una chiave di storytelling che sia davvero interessante per l'audience. E quindi non partiamo dal presupposto che ci sia, poi ovviamente c'è anche una spinta media, ma di fatto non ragioniamo sulla ripetitività del messaggio, ma ragioniamo molto di più nel creare dei messaggi che possono essere interessanti, soprattutto per le audience e di conseguenza poi intrattenenti per il pubblico e cercare anche di trovare quelle che sono le metodologie giuste per far parlare i brand, perché ovviamente anche di branded content si parla tanto. Dal mio osservatorio ci sono dei bellissimi esempi, ci sono anche ancora degli esempi dove il concetto di marchetta è molto vicino e quindi diventano comunque delle espressioni dove le persone sentono pulsa di pubblicità e quindi poi fuggono e quindi di conseguenza anche l'efficacia del messaggio diventa molto meno rilevante. Quindi questo è un po' il... Ho cercato di fare la long story short. No, ti ho fatto parlare di questo perché è esattamente... Ero sicura, non ce l'avamo preparati prima, però ero sicura che avresti un po' risposto alla domanda che volevo farti, cioè che tipo di brand entertainment da un punto di vista creativo fare, cioè quali sono le leve, ma mi hai già risposto, perché coprite effettivamente tanti punti che altrimenti sarebbe difficile poi riassumere da un unico punto di vista in un modello e in un purpose che è abbastanza epico, lo confermo. Sì, e poi comunque adesso a prescindere da questo io non è che voglio fare lo spot della nostra società, quanto parlare di come oggi il branded content. Esatto, esatto, che è un modello comunque che è di grande cambiamento, ma forse il mercato deve riuscire a trovare un po' delle regole e anche cercare di parlare in modo approfondito di quello che è il branded content, perché per il branded content oggi parliamo di una vastità di contenuti enormi e non sempre tutti questi contenuti sono realmente dei branded content. Guarda, io vi ho fatto parlare prima appositamente perché adesso voglio far parlare il brand e se mi accendete Alberto Chiapponi, allora Alberto lo conosco da molti anni, diciamo perché Campari è una delle aziende che in assoluto ha sperimentato, innovato di più da questo punto di vista e Alberto in particolar modo segue da tanto proprio il brand entertainment. Quindi volevo lasciare un po' a te la risposta rispetto a quanto hanno detto i tuoi colleghi in precedenza. Cioè se questi nuovi modelli ti ci trovi, se sono sia da un punto di vista interessante del canale, quindi di quello che stava dicendo Antonella, anche della co-creazione insieme al brand, sia del modello, quello che diceva invece Nicola, ovviamente quindi quanto questo può funzionare e se voi nel vostro piccolo o grande state già sperimentando con esempi di successo anche perché Nicola ha ragione, cioè il pubblico resta fondamentale, quindi bisogna sedurlo. Io sono assolutamente d'accordo, immagino anche tu e ti lascio volentieri la parola. Grazie. Allora io credo che i fondamentali del branded content, del branded entertainment non siano cambiati, quindi questo vuol dire rispettare i tre portatori di interesse in questo scenario che è di fatto l'editore, il brand e il pubblico. Quindi quando io porto valore a tutti e tre questi attori, allora di fatto ho costruito un branded content, ho fatto un branded entertainment che funziona. E questo non è cambiato. Quello che cambia è un pochino il linguaggio che deve un po' adattarsi allo zeitgeist, allo spirito del tempo, quindi come dire, quando noi vediamo, se aprissimo una pagina a caso di un periodico di dieci anni fa, saremmo in una frazione di secondi in grado di dire ma questa è una cosa di dieci anni fa. Perché? Perché quello è lo spirito di quel tempo e lo spirito del nostro tempo sta cambiando abbastanza velocemente, quindi c'è un'apertura sicuramente a nuovi temi, anche sociali, c'è una modalità di fruizione è sempre più veloce, diciamo che l'on demand è veramente rilevante oggi, quindi nel momento in cui oggi creiamo un branded content dobbiamo anche seguire tutti i trend del contenuto, ma non i trend per seguire le mode o per usare delle buzzwords, ma i trend per capire effettivamente il nostro audience cosa apprezza e qual è il linguaggio che riesce a bucare, qual è il linguaggio che riesce a generare informazione ed emozione allo stesso tempo. Quindi diciamo così, fondamentali rimangono, l'applicazione invece si deve evolvere, si deve evolvere velocemente. In questo il ruolo delle aziende è sempre più rilevante perché è molto molto difficile spesso che le agenzie da sole o gli editori da soli riescano a interpretare nel modo migliore le esigenze di comunicazione del brand, quindi sono necessarie delle professionalità anche all'interno delle aziende in grado di dialogare e parlare la stessa lingua con editori, concessionarie e agenzie. Sono d'accordissimo. Penso che è interessante mettervi a confronto perché è tutto assolutamente super sensato. Vorrei tornare un attimo ad Antonella perché vorrei tornare sul pubblico. Alberto non hai citato i KPI e mi hai stupito sulla definizione poi di qualcosa di valore. Io volevo parlarti Antonella di KPI in maniera diversa, cioè quali sono, hai già citato Sanremo che ovviamente probabilmente è l'icona di questo, ma quali sono i format in cui il brand era presente, che avete costruito e che hanno avuto successo? Poi successo ovviamente ognuno lo interpreta come vuole, con i propri KPI, però ci sono state delle esperienze in cui il brand, all'aver costruito con il brand, ha creato fidelizzazione, richiesta, continuità. Tu parlavi di continuità ed è una cosa, sono sempre convinta che se c'è continuità è per forza qualcosa che ha funzionato. Ci sono stati dei formati che hanno avuto successo e continuità e soprattutto non posso non chiedertelo come vi state preparando per Eurovision, perché è uno dei più grandi eventi del mondo. È uno dei più grandi eventi del mondo. Allora, ad Eurovision rispondo in chiusura. Ci sono assolutamente, a parte gli eventi con i quali andiamo molto in continuità, ci sono assolutamente dei formati che hanno costruito una fidelizzazione e un apprezzamento da parte del pubblico. Quali sono stati i fattori che hanno influenzato questa costruzione? Allora, sicuramente il primo, che è un fattore critico di successo per i contenuti brandizzati in generale, è la coerenza che si crea tra il contenuto editoriale e l'assetto distributivo e gli obiettivi di comunicazione del brand. Questo è fondamentale. La coerenza di contesto. Dalla coerenza di contesto deriva, e ne parlava anche in parte Nicola prima, un'assoluta necessità di una narrativa che sia contemporanea e autentica. Nicola diceva che non si deve sentire puzza di Marchetta. O stalker. O stalker. Credo che anche i brand lo desiderino. E poi il terzo fattore di successo sta sicuramente nei diversi touch point distributivi e di coinvolgimento che si riescono ad attivare per supportare tutta la comunicazione del progetto e per far sì che, come diceva invece Alberto, il pubblico di riferimento, l'editore e sicuramente il brand, siano soddisfatti. Noi ovviamente siamo la concessionaria del servizio pubblico e quindi i format che per noi hanno riscosso maggior successo negli ultimi tempi, oltre ad aver avuto questi ingredienti fondamentali, sono stati sicuramente basati su un racconto che abbraccia i temi di sostenibilità e di inclusione. Quindi uscendo dal campo degli eventi ti posso citare ad esempio Linea Verde Radici e tutti i suoi diversi spin-off che tratta dei temi della sostenibilità. Lo abbiamo iniziato con Enem e con Post e poi abbiamo avuto tanti partner diversi. Fortu Costi, un'occasione della giornata mondiale della Terra, un viaggio iniziato sulle piattaforme digitali che ha aperto finestre in onda sui nostri canali generalisti e anche in radio, un viaggio sostenibile. Toyota di Unbreakable, un progetto che abbiamo fatto per l'apertura delle Olimpiadi, ma che è nato sulla piattaforma digitale RaiPlay e quindi ha vissuto come beat up prima di aprire, almeno su Rai1, non a Tokyo, le Olimpiadi. E un altro progetto invece che è Branded Stories con l'Inest, che invece trattava i temi della diversity and inclusion. Quindi per noi la sfida sarà continuare ad accompagnare le aziende con strategie di comunicazione che comprendano temi etici, di sostenibilità, di inclusione. Perché il pubblico del Branded Entertainment si è allargato e condivide valori funzionali, visione e un agire per la comunità. Ma soprattutto ne chiede conto ai brand. Cioè vuole che i brand nella comunicazione e nelle proprie azioni riescano davvero a dimostrare i purpose e i valori per i quali si schierano in un certo modo e che portano avanti. Per quanto riguarda Eurovision, come dicevi tu, è uno dei principali eventi internazionali, è massiccio e per questo è chiaramente sia la produzione che il marketing Eurovision sono gestiti in maniera assolutamente centralizzata, gerarchica e molto ferrea. Noi ovviamente facendo tesoro dell'esperienza che abbiamo avuto sugli eventi italiani di territorio, ci stiamo preparando, sviluppando idee e concept che possano supportare il brand di territorio ad essere presenti sia nella città di Torino, sia con delle attività di road to e di build up all'evento che ci sarà a maggio a Torino. Bocca al lupo, già da adesso. Crevi il lupo, crevi il lupo. Volevo tornare a Nicola, perché stamattina in uno dei panel precedenti o forse in apertura abbiamo messo a confronto agenzia e cliente e si parlava di brief carta bianca. Mi interessava capire dal tuo punto di vista quando approcciate adesso un cliente o vi chiamo un cliente, come lavorate? Cioè come è il processo creativo oggi? Allora, io ti posso dire com'è il processo creativo nostro, perché poi il processo creativo oggi secondo me è molto vario, ci sono ovviamente tantissimi punti di vista, cerco di trasferirti il nostro. Il nostro è un punto di vista ovviamente molto basato sulla co-creazione, nel senso che anche il rapporto tra cliente e diciamo agenzia o comunque quando si fanno dei progetti così complessi, di brand and entertainment, di brand and content, il processo di co-creazione è molto più integrato rispetto a una volta, perché si lavora molto di più sulla produzione, già quasi dall'inizio, rispetto a quando una volta nell'agenzia si lavorava per un mese per fare progettazione, poi si presentava, poi si entrava in produzione, oggi ovviamente è tutto molto più integrato. Secondo c'è quello che io chiamo un enorme problema di ego che va superato, per cui le competenze all'interno di questo processo diventano molto meno nette. Oggi lavorare come creativo, e io comunque provengo da una scuola di puro copywriting, ma non sono capaci di fare lo sceneggiatore e non voglio neanche essere capace, e non voglio neanche sostituirne a quello che è uno sceneggiatore, perché fa un mestiere diverso. E oggi bisogna sicuramente sfruttare le competenze creative, di sintesi e anche di capacità strategica sui brand, ma poi metterle a servizio di competenze completamente diverse che devono essere in grado di raccontare delle storie che non durano 30 secondi, ma durano magari 2 minuti, o magari 5 minuti, o che sono una serie televisiva che hanno delle regole di narrativa e di grammatica completamente diverse. In questo, secondo me, bisogna fare uno sforzo, è una cosa in cui io credo tantissimo, perché è parte proprio del DNA di quello che stiamo facendo. La terza cosa è... No, chiudo... Vai, scusami che mi fanno segni. Ah, ok. È il rapporto con la casa di produzione, per cui con la casa di produzione si lavora dall'inizio, e quindi c'è un processo che è unico, non è segmentato. Grazie mille, grazie. Tutto chiarissimo e condivisibile. Ultimi due minuti ad Alberto, adesso ti cronometriamo. Volevamo qualche spoiler del presente e del futuro rispetto a quello su cui state lavorando come brand entertainment, se lo puoi dire, se non lo puoi dire, però in generale che mood c'è di creazione verso il futuro, anche per darci un po' di speranza, diciamo, di apertura come industrie. Quello che abbiamo imparato in questi ultimi due anni è essere flessibili. Quindi, di fatto, cerchiamo di costruire delle piattaforme modulari che addirittura possano ricreare la stessa esperienza offline e online. Faccio solo un esempio, che è un esempio del passato, però che incarna totalmente questo spirito. Quello che abbiamo realizzato quest'anno con Aperol, il Together We Cheers, quindi abbiamo creato una catena infinita di brindisi. Quindi, partendo da un'azione concreta delle persone, che è un'azione che a livello online poteva essere fatta da soli, ma essere montata insieme ai propri amici o comunque anche a sconosciuti che volessero brindare e creare la più lunga catena di brindisi della storia. Quindi il principio era di partire con un bicchiere in mano e passare da sinistra a destra, quindi simulando questo brindisi. Oltre 16.000 persone l'hanno fatto, però non sono 16.000 persone che l'hanno fatto online, sono le persone che l'hanno fatto online, che l'hanno fatto all'interno dei nostri tour estivi, all'interno delle due grandissime attivazioni che abbiamo fatti a Milano e a Bari, con un appoggio molto solido all'interno dei punti vendita dei bar e anche dei supermercati. Quindi diciamo così, un'esperienza seamless che vive online, vive offline e crea lo stesso tipo di engage, un'esperienza modulare che quindi se fosse mancato per qualche motivo la possibilità di farlo offline avrebbe funzionato benissimo anche solo online e l'esito, l'effetto è comunque molto spettacolare, di grande coinvolgimento e permette appunto alle persone di sentirsi parte di qualcosa. Poi a questa attività sono stati legati anche altri messaggi, concorsi, e quindi è questo il futuro. Il futuro è essere modulari, flessibili, creare esperienze sempre più coinvolgano sia i punti vendita che i touch point online, che i touch point offline, che i talent in grado di amplificare questa esperienza, user generated content che di fatto il contenuto stesso di questa attività enorme ha tutto generato dagli utenti, però con la possibilità di amplificare, spettacolarizzare, creare un contenuto in grado di comunicare il brand in modo molto concreto ma anche coinvolgendo molto le emozioni delle persone. Benissimo, vi ringrazio, penso che la chiusura è perfetta, quindi co-creazione e flessibilità sono le parole d'ordine per il brand entertainment. Vi ringrazio tantissimo. Nicola no, ma gli altri due penso che abbiano dei progetti anche in gara al BEA, quindi assolutamente al BEA Italia. Quindi in bocca al lupo e domani speriamo di vederci. Passo la parola fra pochi minuti a Alberto, scusate, Alessio Livieri per New Stage Calls, New Talents. Grazie mille. A Simone, grazie. Ciao, grazie a tutti. Grazie a voi. Ciao.